ciao a tutti oggi ancora mcdonald e vediamo che giochini troviamo perché la collezione di adventure time c'è il toast fai vedere anche io c'ho il toast non voglio il toast e io voglio il giochino tutti mangi le patatine e io mi vediamo cos'è sono i giochini di adventure time sono i giochini di adventure time si accende pure vuoi vedere si accende la luce ah ma lo sai che qua dentro guarda ci sono le faccine le faccine che poi dall'altra parte c'è un puzzle che dopo lo facciamo proviamo a vedere la faccina così si mette vediamo si illumina la faccina si illumina il mio invece guarda fa dindalon 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 e li fa dindalon dindalon e dentro cosa c'è il giochino delle palline vuoi vedere un'altra? la faccia arrabbiata? andiamo la faccia arrabbiata la faccia arrabbiata e io il gioco delle palline e io guarda tu tu hai visto? ti piace? noi iniziamo a mangiare ci vediamo dopo iscrivetevi guardate altri video ciao 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 ciao